eccoci pronti per iniziare ragazzi questa è la diretta di domenica 29 marzo se mi sentite, se vedete la schermata stiamo per iniziare cortesemente mandate un ok in chat così poi partiamo ciao a tutti bentornati sul canale youtube di associazione culturale Maggiolina a questa diretta di domenica 29 marzo questa sera voglio parlare di google photo vogliamo dare un po' di spazio anche alle vostre domande prima però voglio dire due cose relative al nostro smartphone una in particolare subito perché è da qualche giorno che la trasciniamo e non ne abbiamo mai parlato beh innanzitutto domani sera lunedì facciamo pausa non facciamo la diretta quindi domani sera ci sarà qualcosa d'altro un video registrato o qualcosa d'altro ma non sarò in diretta qui sul canale ok vediamo allora adesso cosa volevo dirvi volevo parlarvi dello smartphone vi ho detto in altre circostanze nelle altre dirette che in questo periodo particolare è meglio evitare aggiornamenti aggiornamenti che potrebbero causare malfunzionamenti perché seppur è vero che gli aggiornamenti vanno verso un miglioramento della situazione della nostra tecnologia quindi del nostro computer e del nostro smartphone gli aggiornamenti vengono fatti pensando di andare in meglio ogni tanto causano dei malfunzionamenti a qualche sistema quindi a qualche computer a qualche cellulare c'è qualcosa che non va per cui se le cose al momento funzionano egregiamente e sono cose indispensabili mi riferisco tanto per capirci alla app per quanto riguarda i cellulari della banca in questo momento è particolarmente importante per tutti noi per chi ce l'ha la aggiorniamo? magari no funziona? quella aspettiamo ad aggiornarla perché se succede un qualche malfunzionamento o una disconnessione o qualcosa di questo genere e per cui per rimettere tutto a posto abbiamo bisogno di telefonare o di recarci in banca ecco che può essere un problema fino adesso va tutto bene facciamo un aggiornamento e ci troviamo magari in difficoltà dico la banca perché è la prima che mi viene in mente ma per tante cose per cui appurato che gli aggiornamenti di Windows se li fanno ormai si fanno si possono procrastinare si possono ritardare di sette giorni ma poi ve lo richiedono eccetera quindi per quelli lì regolatevi un po' come potete non so se ne stanno arrivando quelli va bene tanto prima o dopo ci tocca farli quelli di Android invece non siamo obbligati e soprattutto anche diciamo i gestori di Android hanno detto calma che poi è Google i gestori di Android calma in questo periodo si sta tranquilli niente aggiornamenti perché le cose vanno bene adesso e ci evitiamo possibili problemi quindi lì siamo a posto però le app dei telefonini Android sono aggiornate dai singoli programmatori voi sapete che noi abbiamo l'app Maggiolina quella che ci permette di cercare i video sul canale direttamente nel nostro cellulare sta a noi se io la aggiorno sul vostro telefonino si aggiorna ok e quindi non è detto che magari le app non vengano aggiornate e quindi che non ci creino problemi però nel caso delle app dei nostri smartphone possiamo scegliere noi posso dire ferma decido io se aggiornarla o no quella che mi dà poco peso se voglio l'aggiorno quella super importante se funziona la lascio stare aspettiamo che smetta di essere super importante che non sia un problema telefonare e farsi sistemare le cose e poi la aggiornerò come facciamo a controllare questa cosa andiamo sul nostro telefonino Android ovviamente andiamo nel Play Store che è il luogo da cui arrivano tutte quante le nostre app e andiamo qui sulle tre righine premo le tre righine e trovo le mie app e i miei giochi se non mi sbaglio premo qui sopra ed ecco qui qui c'è scritto mantieni le tue app aggiornate vedete che io ho attiva perché io non ho attivato l'aggiornamento automatico delle app perché non voglio in sostanza poi sotto ci sono tutte quante le app e qui mi dicono aggiorna 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 e quindi decido io ad esempio Google Photo voglio aggiornarlo adesso vorrei parlarvi di Google Photo tra un po' tanto vale che io ce l'abbia aggiornato provo ad aggiornarlo speriamo che non crei difficoltà alla diretta adesso lo scopriamo col vecchio telefono sarebbe stato un problema in questo momento probabilmente no sto controllando la diretta e va tutto bene quindi questa applicazione si sta aggiornando e stop Instagram ma sì la posso aggiornare non dovesse più funzionare Instagram vabbè sopravvivo per qualche giorno e quindi mi 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 gestisco ma se tra l'elenco c'è qualcosa per me di vitale importanza come dicevamo un attimo fa non lo aggiorno perché preferisco mantenere lo status quo e quindi di poter essere certo che il mio cellulare funzioni e che quella applicazione funziona tanto anche se non aggiornate il sito delle banche o della posta non succede niente nel breve periodo se voi non lo aggiornate mai e mai e mai tra sei mesi vi dicono quando aprite l'applicazione dice questa applicazione non è aggiornata non funziona più ma non domani se non lo aggiornate quindi non c'è urgenza se va tutto bene si tiene tutto che va bene così siamo più tranquilli fatemi dare un'occhiata alla chat così vediamo di cosa si tratta cioè vediamo se c'è tutto a posto ok ah sì si parlava dell'aggiornamento di Windows vediamo cosa dice Pietro Daniele perché il pc non ha cambiato l'ora vedo che anche il tuo non si è aggiornato è vero adesso adesso guardiamo anche qualcuno di voi diceva che non si era aggiornato va bene allora questa cosa qui appurata d'accordo torno fuori e vabbè allora guardiamo il discorso del pc io prima dicevo in chat al nostro amico Sergio dico Sergio controlla l'ora del tuo pc perché è fuori sincronia e non ho visto che anche il mio perché anche per il mio è così allora devo andare provo ad andare a premere qui vediamo se premo normalmente e poi nascondi agente allora qua non c'è niente allora faccio tasto destro vediamo un po' barra degli strumenti ricerca adesso non ci vedo neanche bene sovrappone finestre mostro gestione attività impostazioni barra delle applicazioni no allora vediamo qua data e ora data e ora ora scriviamolo bene modifica la data e l'ora prendiamo qui domenica ore 17 sincronizza l'orologio sicurezza passa automaticamente all'ora legale non l'ha fatto era già acceso imposta data e ora automaticamente vabbè proviamo a spegnere e riaccendere vabbè qua mi da 16.09 e qua 17.09 lui nel suo intento ha fatto il passaggio perché non non ce l'ho giusto imposta data e ora automaticamente e qui siamo a posto il fuso orario è giusto Roma c'è dentro ah ecco vabbè ho dovuto ripremere il fuso orario e adesso è arrivata a posto strano è una delle pochissime volte che mi capita di vedere questa cosa qui saluto Andrea che dice un nuovo amico ben arrivato Andrea mi fa piacere averti qua con noi ok vediamo cos'altro si dice in chat se siamo pronti per fare per fare altro va bene qua ci siamo allora raccontiamoci due cose sulla chat e vedo che Sergio dice sincronizza su imposta orario sono curioso di andare a vedere imposta orario imposta automaticamente l'ora vediamo data e ora correnti qui siamo arrivati più o meno nella stessa posa ah questo qui sincronizza sincronizza l'orologio ultima sincronizzazione dell'ora riuscita il 29 marzo ok vabbè dai diciamogli sincronizza è la prima volta che mi capita di vedere questa cosa qui le altre volte mi sembrava che funzionasse senza nessun problema grazie Sergio della dritta allora Domenico oh bene mi state già dicendo come fare Giovanni non era impostato il fuso orario automatico sì mi sembrava che fosse a posto a me adesso poi quando l'ho regolato ci siamo però va bene adesso siamo a posto e abbiamo l'orario a posto mentre invece i cellulari vanno direttamente saluto e ringrazio Augusto per l'uso del super sticker ciao Augusto e grazie infinite grazie infinite allora ragazzi dicevo ah qui c'è anche un baffetto su sincronizza vabbè basta con questa storia dell'orologio adesso l'orologio è a posto ci penseremo tra sei mesi quando quando capiterà di nuovo eventualmente allora Google Photo ne abbiamo parlato un sacchissimo di volte di Google Photo e non è mai abbastanza perché me lo chiedete continuamente tutti quanti arrivano ogni tanto e mi chiedono e ci sono un sacco di video che parlano di Google Photo per cui la mia prima risposta è sì c'è la app Associazione Maggiolina o sul canale ci sono tantissimi video cerca Google Photo e trovi la risposta e che di solito qualcuno ha una domanda e vuole sapere quello e poi una volta che sa quello vuole sapere qualcosa d'altro e quindi è sempre difficile ringrazio Paolino grazie per la super chat grazie infinite Paolino allora vediamo cos'altro si dice a proposito di Google Photo puoi fare vedere come hai impostato per mandare le foto in automatico sul cloud dice Vano sì adesso guardiamo proprio questa cosa qua va bene e qui ci siamo allora Google Photo lo scopo di Google Photo intanto cos'è Google Photo è un cloud è un servizio nuvola Google se noi abbiamo un account Google un account Gmail non fa altro che cioè non fa altro ci dà tra i tanti servizi uno spazio di archiviazione immagini sulla nuvola su uno dei computer di Google su uno dei server di Google vanno a finire se vogliamo foto e video nostre in un'area riservata protetta da password che conosciamo solo noi possiamo scaricare lì sulla nuvola le foto e video qual è il vantaggio di scaricare foto e video sulla nuvola? che non occupano spazio a casa nostra sui nostri dispositivi sui nostri computer non devo più avere mille DVD sui quali archiviarle non devo più avere hard disk esterni sui quali archiviarli non devo avere paura di perderle perché se si rompe l'hard disk esterno perdo tutte le foto che ci sono dentro se sono sempre qua sulla nuvola io sono bello a posto perché le riprendo dalla nuvola grazie infinite Domenico per l'uso della super chat grazie infinite quindi per noi è un vantaggio metterle sulla l'unica diciamo remora come l'unica esitazione che potremmo avere secondo me è una paura che queste foto vengano viste da altri dipende tutto da che foto mettete su se metto su le foto di quando sono stato in vacanza in montagna se anche le vede qualcun altro cosa che non è quindi sono lì sono al sicuro ma dovessero vederle anche qualcun altro non mi fa problema e lo stesso discorso è se ho le foto in casa cioè a volte purtroppo capita che ci portino via delle cose a casa e quindi se io le ho sul mio computer o se le ho su un hard disk esterno e mi portano via qualcosa e le prendono su quelle foto vengono viste da qualcun altro comunque quindi una garanzia non c'è al 100% e quindi va bene per il resto vanno messe là perché così non occupo spazio da me e lo faccio col computer ma lo faccio anche e a maggior ragione con lo smartphone perché ogni volta che io faccio una foto sul mio telefono quella finisce nel telefono e il telefono vede occupato parte della sua memoria e foto e foto e foto e foto e il telefono è pieno cosa facciamo quando il telefono è pieno quando il telefono non fa più niente quando il telefono è pieno non fa più niente allora o scarto delle foto ma ne butterò via 5 ne ho fatte 100.000 comunque è un problema o le scarico sul computer tutte cose che si facevano una volta e che molte persone non sanno fare se ho attivato google photo vanno da sole sulla nuvola e libero il mio telefono e adesso ragioniamo su questa cosa qui vediamo com'è allora Roberto mi dice come faccio a scaricare un file che si trova su OneDrive sul pc ne parleremo un'altra volta perché OneDrive è sempre nuvola ma di Windows e non voglio andare fuori adesso da questo argomento ci ragioneremo in un secondo momento va bene stavo guardando la chat per vedere se era tutto a posto e mi sembra e mi sembra di sì perfetto Gianni bisogna mettere una password sicura per il proprio account e forse si è più sicuri eh certo bisogna mettere una password sicura che non sia la data di nascita che non sia il nome del cane del gatto moglie marito figli perché quelle le trovano subito volendo allora si può fare anche con iPad si Google Photo è accettato è in grado di funzionare anche sul mondo iPhone per cui iPhone iPad e quant'altro basta installare la app Google Photo anche su questi dispositivi allora anche le foto che ci arrivano via WhatsApp vanno dentro Google Photo dipende da cosa volete fare se volete mettere metterle ci vanno se non volete metterle non ci vanno è una scelta nostra adesso vedremo come scegliere questa cosa io di solito quelle di WhatsApp non ce le mando perché su WhatsApp ricevo un sacco di cose che non mi interessano mille immagini dei buongiorno che però non voglio intasare la nuvola quando è che le guardo le immagini del buongiorno sul momento ma neanche sul momento quindi quelle di WhatsApp non ce le mando però si potrebbe e quindi vediamo come gestirci allora Marleni mi rispondi dopo evidentemente no cosa vuol dire eccolo qua modalità lenta attivata vuol dire che non si può nella chat vuol dire che non si può mandare più di un messaggio nell'arco di un minuto per aiutare i moderatori a tenere controllata la chat e quindi a una gestione dei messaggi allora quindi appurato che là c'è uno spazio dove mettere le nostre foto gratis cosa non indifferente come facciamo averlo bisogno avere un account Google quindi ora apro il browser sul quale ho il mio account di prova Comazawa dice ma allora devo disattivare l'applicazione Galleria no adesso ci ragioniamo ci ragioniamo allora io ho aperto il mio browser questo è il mio account Google quindi in questo caso quello di esperimento per me è corso tablet5 chiocciolagmail.com a questo punto vorrei fare una parentesi ci sono tantissime persone che mi scrivono che mi danno il loro indirizzo email chiocciolalibero.it chiocciolalice.it chiocciolatiscali.it eccetera eccetera va bene però non sono account Google quello è il vostro indirizzo email per il sito Amici di Maggiolina serve un account Google perché Google tra i tanti servizi ci offre anche la possibilità di fare account di Maggiolina quindi per l'account di Maggiolina quando fate la richiesta tessera l'indirizzo di Gmail non importa se voi utilizzate un altro indirizzo come email anche se ormai sono vecchi quelli bisogna piano piano muoversi muoversi di qua perché di qua ci sono molte più possibilità l'ho fatto anch'io con grande dispiacere perché a me dava un po' fastidio fare questa cosa però su certe cose bisogna adeguarsi e quindi è molto più semplice avere un account di questo genere anche perché comunque sono talmente tanti servizi che lo devi avere comunque l'importante è che per come dire per Maggiolina ci comunchiate l'account Google per Google Photo serve un account Google quindi sul vostro smartphone dovete avere un account Google se non ce l'avete bisogna venire qua e registrarsi e farselo ci sono i video che ne parlano e magari proveremo in un altro momento anche noi a farlo fatemi dare un'occhiata alla chat perché vedo che ci sono un sacco di domande allora Mauro dice Daniele sono riuscito a stampare dal cellulare con Google Cloud Print e condividere la stampante sul cell di mia moglie riguardo al video 123 ecco Google Cloud la nuvola permette anche di stampare dal cellulare abbiamo fatto un video recente serve l'account Google Sergio dice quando si condivide un album con un altro utente è indispensabile che quest'ultimo abbia un account Gmail per poter condividere l'album sì tutto questo mondo di servizi Google funziona se le persone hanno un account Google e non è difficile che ce l'abbiano perché i telefonini Android dato che Android è un sistema operativo creato sempre dall'azienda Google diciamo richiede un account Google per cui siamo stati praticamente obbligati ad averlo perché per tutto serve dato che è il più diffuso Google telefonini eccetera e i tanti servizi che hanno un account Google serve per cui mettiamoci nell'ordine d'idee che resistere all'averlo o a usarne altri vecchi è una resistenza e basta cioè si rinuncia a qualcosa si fa solo fatica e non vuol dire smettiamo di usarvi se ho un indirizzo email dell'altro genere quello continua a funzionare va bene però per usufruire di servizi più moderni serve un account di questo genere più moderno e quindi se voglio vedere le foto che carico dal computer sul telefonino o se voglio vedere le foto che carico dal telefonino sul computer posso ma serve che i due abbiano lo stesso account o meglio sul telefonino c'è un account se voglio vedere le foto del telefonino qui devo loggarmi con l'account del telefonino lo stesso se voglio vedere le stesse foto sul tablet sul tablet deve esserci l'account del telefonino che vedo sul computer e lo vedo anche sul tablet non sono obbligato a far sì che sia un unico account se è uno unico però è più facile posso comunque averne più di uno e gestirli e adesso cerchiamo di vedere come fare vediamo cosa dice Gianluca la sincronizzazione va sempre tenuta inserita nel dispositivo dipende non sempre adesso vedo se riusciamo a parlarne allora Domenico dice praticamente se le foto sono su google posso tranquillamente eliminarle dal telefono esatto quello è l'uovo di colombo tra virgolette le foto sono su google sul telefono le tolgo ma le toglie lui le toglie google foto adesso vediamo come si fa sul telefono le tolgo e quindi il mio telefono guadagna un sacchissimo di spazio il telefono continua a vedere le foto perché tanto è collegato a internet e le guarda direttamente dalla nuvola col vantaggio che io però le posso guardare anche con il computer col tablet posso dire ai miei parenti lontani guardate le foto del vostro nipotino al mare perché condivido scrivendo anche il loro account l'album delle foto del mare quindi loro mentre noi siamo già in vacanza speriamo che vengano presto quei tempi posso condividere le foto e loro alla sera al giorno nel momento in cui le abbiamo scattate vedono anche loro le loro foto si ordinano l'album e quant'altro è un mondo molto più più vasto allora Emilia dice come faccio a spostare la mia email da un altro gestore da gmail non posso le email di un altro gestore restano su un altro gestore devo aprirmene un'altra di qua e piano piano dire alle persone la nuova email e piano piano a mano a mano che le persone sanno che ho una nuova email quella vecchia viene lentamente lasciata perdere si può fare in modo che quando ricevo una posta sull'email vecchia l'email vecchia da sola mi mandi la posta su quella nuova me lo reindirizzi me la inoltri altrove ne abbiamo parlato tanto tempo fa in qualche video e c'è quel video lì ma magari torneremo a riparlarne in un altro momento però piano piano serve avere un account nuovo lo dico lo dice uno restio ai cambiamenti e lo dice uno a cui è dato fastidio tantissimo questa cosa di doversi fare per forza un account google ai tempi e dopo un po' alla volta insomma mi sono reso conto che effettivamente a parte che è gratis effettivamente dà talmente tanti servizi che non puoi farmi a meno in sostanza allora vediamo cos'altro si dice Mauro è vero anch'io non non mi non mi andava tanto l'account google però è così lo so perché io sono uno così e quindi allora io mi sono fatto sette gmail d'accordo dice live oscar Mauro però per avere per averle devi scaricarle ogni volta dalla nuvola assolutamente no Mauro il tuo telefono consulta le foto direttamente sulla nuvola senza bisogno di scaricarle quindi non c'è lavoro tu apri usi il tuo telefono tanto come prima solo che le foto non sono più qui sono là adesso adesso volevo andare avanti vediamo ancora cosa si dice non sono iscritta a cloud e sul mio cell sono sparite delle foto a me care come faccio a recuperare le foto che sono file le foto sparite bisognerebbe avere in mano il telefonino per vedere ma la maggior parte delle volte non sono sparite per caso sono state cancellate e quindi ciao bisogna fare attenzione e ormai secondo me non si può fare più niente il discorso cloud basta avere l'account google se hai l'account google hai anche tutto il resto vediamo quindi ancora Jacqueline quindi le foto che ricevo non prendono spazio sul cell è solo quelle che faccio io no quelle che fai tu prendono spazio sul cell ma se vanno sulla nuvola non lo occupano le foto che ricevi occupano spazio sul cell per quello che io dico ragazzi volete mandarmi un buongiorno scrivetemi buongiorno non mandatemi mille foto videini e robe varie perché mi riempiono il telefono io ne ricevo milioni al giorno non le guardo neanche più ormai perché ormai le ho viste tutte sono sempre uguali e le ho viste tutte quindi evitiamo di continuare a mandarci questa roba in giro perché riempiamo il nostro telefono perché tutte le volte che io mando una foto a un'altra persona via whatsapp il mio telefono mette da parte una copia di quella foto ma se io quella foto ce l'ho già ce l'ho già nel mio telefono tanto occupa già spazio quando la mando via whatsapp il telefono ne fa una seconda coppia e la mette da parte quindi dopo ne ho due nel mio telefono e siccome via whatsapp mando un miliardo di foto il mio telefono è inspiegabilmente pieno e sono tutte quelle foto che ho mandato così per mandare il buongiorno e riempio il mio telefono e quello dalla persona dall'altra parte quindi ragioniamo su questi discorsi qua google foto ci libera ma whatsapp è un mondo a parte e quindi poi se dovessi caricare su google foto tutti i buongiorno che ricevo anche lì dopo non riesco più neanche a vedere le mie foto perché è pieno di fiorellini e di uova di pasqua e di auguri di natale eccetera eccetera per cui gestiamoci adesso vediamo come gestire andiamo avanti questo argomento richiede un sacco di domande quindi bene molto bene allora Enzo si può cambiare il nome sulla email tenendo lo stesso account no quando si sceglie l'account google bisogna pensarci perché poi è quello posso toglierlo e metterne un altro ma tutta la roba che c'era dentro sparisce e quindi va via tutto e soprattutto se l'avevo già detto a qualcun altro devo dirgli non è più così e cos'è quindi l'account va fatto con criterio quando è il momento vediamo cos'altro si dice ah ecco intanto Sergio ecco non sapevo se dire Sergio dice lezione 42 verde come cambiare indirizzo email benissimo Luca ciao Daniele come faccio ad avere sul desktop l'icona di google photo allora lo abbiamo fatto Luca lo abbiamo fatto ieri da te quando tu sei in un posto quindi sei in google photo vado in google photo eccolo qua premo qui tengo premuto trascino ed eccola qua sul desktop quindi adesso io ho google photo sul desktop però non cerchiamo di avere tutto sul desktop perché poi abbiamo 100 robe sul desktop google photo è qui comodo quando io apro il mio google adesso vediamo se ci vado diciamo così quando io apro il mio browser quello che mi interessa si apre già in google qui ci sono già tutte le icone senza bisogno di averle anche sul desktop poi da qui vado in google photo ci vado intanto in google photo eccoci eccoci arrivati quindi qui ci sono delle foto che io ho messo dentro questo è un account di esperimento ci sono queste foto qui queste foto qui le vedo anche dal telefonino ok allora diamo un'occhiata a google photo intanto guardiamo il logo di google photo l'abbiamo visto anche qua google photo questo foto c'è anche sul telefonino per cui io prendo il mio telefonino questo vado su google trovo foto lo apro e adesso vedo le stesse foto queste foto non sono sul mio telefono sono sulla nuvola e entrambi i dispositivi consultano la nuvola e le guardano se io ne tolgo una adesso la tolgo dappertutto perché la tolgo dalla nuvola quindi tutti i dispositivi non la vedono più grazie infinite Roberto per l'uso del super sticker grazie grazie infinite quindi è importante per noi saperlo gestire ma a questo punto e qui mi avete chiesto la cosa il mio telefono come fa a caricare le foto su google photo se io faccio una foto va automaticamente su google photo no devo dirgli telefono manda le foto su google photo e adesso vediamo come fare vediamo cosa dice Mauro infatti con google drive la memoria del cell resta sempre libera per la montagna di aggiornamenti di android che ho disattivato gli automatici ok ma google drive è un altro discorso parliamo di google photo perché le google cosa importante le foto su google photo non occupano spazio meglio occupano spazio là ma lo spazio è illimitato se metto su google drive che invece è la nuvola sempre di google ma per altri documenti per ciò che non è foto e ciò che non è video quella ha 15 giga di spazio si riempie per cui foto e video su google photo come faccio a mandarceli quindi io ho aperto google photo avete visto sul mio telefonino qui nei tre pallini trovo impostazioni impostazioni eccomi qua qui c'è backup e sincronizzazione ora sul mio telefono la sincronizzazione è già attiva e backup e sincronizzazione è attiva su un determinato account di solito è lo stesso che avete nel telefonino ora io nel mio telefonino ne ho tre o quattro ho scelto che le foto vadano in un posto solo quindi quando il mio telefonino scarica una foto la manda sul google photo di un determinato account quindi cliccando qui si può gestire tutto quanto il discorso nel mio nel caso del mio telefonino foto e video vengono mandati sulla nuvola quando vengono scattate la dimensione di caricamento è alta qualità spazio di archiviazione gratuito illimitato da qui potrei scegliere e potrei passare a originale quindi non alta qualità ma originale così come scatto io però quello non è gratuito vedete che c'è rimanente 14 gigabyte per cui quello è limitato se invece io tengo l'alta qualità che è questa che ho già foto all'infinito senza problemi ok ma allora mi dico senti ma le foto di whatsapp queste abbiamo detto foto e video vanno su ma quelle di whatsapp posso gestirle sì no cartelle del dispositivo sottoposte a backup backup significa salvataggio qui c'è scritto backup e sincronizzazione in definitiva ti dicono le foto che hai qui vengono salvate altrove e quindi ce li hai sempre là se io voglio posso mandare anche delle altre foto che non siano quelle scattate dal mio dispositivo e sono quelle altre foto che girano nel telefonino whatsapp e instagram nel mio caso poi dipende dai telefonini se io premo qui cartelle del dispositivo premo e vedo che appunto il mio telefono trova instagram e whatsapp perché vede che all'interno del telefono ci sono installate queste app e ci sono delle immagini se io accendessi questi due segni di spunta questi due interruttori le foto di instagram e le foto di whatsapp vanno anche loro su google photo ovviamente quando sono su google photo si mescolano tutte le mie foto in ordine di data e ora eccetera e quindi è un po' un disastro se io ricevo un sacco di buongiorno eccetera per cui nel mio caso preferisco non tenerle su whatsapp non tenerle su google photo e a mano a mano che arrivano le elimino tutte se le guardo le guardo ma poi mi devo ricordare di eliminarla perché sennò stanno lì e riempiono il nostro telefono vediamo cos'altro quindi da qui si gestisce vediamo cos'altro si dice in chat allora mytunerlog dice ciao daniele senti io non ho la sincronizzazione attiva perché scelgo cosa mandare sul cloud ma quando apro google photo come faccio a vedere solo determinate cartelle della galleria da cui le ho mandate quello è un altro è un altro discorso ancora ne abbiamo parlato in un altro video che si chiama google photo vs galleria qualcosa se faccio in tempo dico anche adesso ma vedo che stiamo già andando come orario però c'è un video dove c'è scritto galleria vs google photo in copertina o viceversa e parla espressamente di questo discorso qua almeno se non ricordo male però so che ne ho parlato vediamo cos'altro dice Antonio send non mi mantiene più i file inviati con whatsapp ed è una bella cosa se non te lo fa più vuol dire è troppo pieno eccetera ma se non te li mantiene bene perché è solo una perdita di tempo noto ad esempio google duo google duo è l'applicazione che noi abbiamo usato per abbiamo visto per fare videoconferenze e in questo momento per fare videochiamate e videochiamate multiple anche lì ci si possono mandare foto videini eccetera di bello quelli hanno che scadono ti mandano un videino dove ti mandano un saluto di un buongiorno lo vedi o non lo vedi fa niente quello però poi scade si autodistrugge dopo un certo periodo di tempo quella è una grande liberazione perché tanto se lo volessi tenere potrei salvarlo mandando su mandarlo su google photo al momento ma se l'ho guardato poi quello si autodistrugge ed è una grande cosa è una bella pensata perché sennò riempiamo il telefono di qualcosa d'altro vediamo cos'altro volevo dire adesso leggo la chat per vedere se mi sfugge allora a me ma è buono avere il backup e dipende io di queste non voglio il backup ma del resto sì le altre foto le voglio mandare sulla nuvola rivediamo il discorso quindi io ho le foto sulla nuvola come faccio a risparmiare spazio sul telefonino ogni tanto io adesso sto tornando indietro sono su google photo io scatto le foto e lui le carica sulla nuvola ci siamo se voglio liberare spazio sul mio telefono ogni tanto vado sulle righine e dico libera spazio lui fa un calcolo e mi dice quanto spazio è liberabile in questo caso mi dice impossibile liberare spazio e utilizza l'opzione per quando gli elementi sono sottoposti a sbackup e possono essere rimossi dal dispositivo perché adesso non posso liberare spazio? perché ho già tutto quanto libero l'ho già fatto in definitiva e non ho fatto foto nuove quando faccio delle foto nuove o quando mi ricordo vengo qui e faccio libera spazio per cui abbiamo detto impostazioni libera spazio lui mi dice guarda che ci sono 35 foto e 40 giga da liberare lo libero sì dico ok e lui cancella le foto dal telefonino ci pensa lui a verificare la corrispondenza cancella dal telefono solo quello che c'è già certamente su google photo se non c'è non lo cancella e quindi è una buonissima cosa per tenere spazio libero vediamo se mi ricordo qualcosa che volevo dire in tal senso adesso vediamo la chat cosa si dice allora Enzo se volessi salvare una singola foto di whatsapp se io volessi salvare una singola foto adesso non ho la possibilità di mostrare qualcosa senza far vedere nulla di personale o magari i telefoni di qualcuno che mi scrive e magari darei fastidio alla sua privacy facciamo una parentesi un attimo poi poi lo facciamo la galleria la galleria qualcuno mi chiedeva prima quindi devo cancellare la galleria no la galleria aspettate che c'è della pubblicità in arrivo non voglio che si veda poi ne parliamo la galleria non non la uso più semplicemente la galleria non la cancello dal telefono c'è ma smetto di usarla smetto di usare le cartelle della galleria smetto di cercare le cose nella galleria la galleria per me non esiste più quindi lavoro come se esistesse solo google foto in galleria ora io ci vado non ho foto perché le foto si cancellano automaticamente quando libero spazio da google foto se io scatto una foto col telefonino quella va a finire in galleria e va a finire su google foto contemporaneamente scatto la foto va in galleria e google foto la manda su quando faccio da google foto libera spazio non aiutarmi telefono non mi serve quando faccio da google foto libera spazio si cancella la foto del telefonino e nella galleria non c'è più perché il telefonino non ha più la foto la galleria fruga all'interno del nostro telefonino per vedere cosa c'è dentro e quindi fa questa fa questa cosa tornando all'amico che diceva ma come faccio a mandare una foto di whatsapp su google foto perché quella mi piace la voglio tenere quando tocco la foto e la sto guardando c'è il simbolo della condivisione quindi c'è sempre ormai siamo abituati quella cosa lì da condivisione premo sul simbolo della condivisione e scelgo carica in google foto quella foto viene condivisa sul nostro google foto quindi va direttamente lì sopra e quindi ci siamo nel senso che la metto io manualmente sul mio google foto quindi non prende lui da solo tutte quelle di whatsapp ma quella che interessa a me la condivido su google foto in modo che ci vada direttamente benissimo vedo un sacco di domande speriamo che non saltarne troppe mi dispiacerebbe allora Gianni buonasera a tutti io ho un problema con la posta outlook ne parleremo in un altro momento Giovanni vogliamo rimanere caldi su google foto allora Osvaldo ciao Daniele ma poi sul telefonino devi scaricare la app google foto con l'account che usi sul pc sul telefonino deve esserci l'app google foto di solito c'è già se no la si mette e ovviamente se voglio vedere le stesse foto deve essere lo stesso account perché altrimenti sono due persone diverse è vero che io posso avere 2, 3, 4, 10 account però è come se io fossi 2, 3, 4, 10 persone diverse perché tengo le cose separate google ti fa aprire tutti gli account che vuoi però per lui sei una persona nuova e per ogni account gli stessi servizi però non interagiscono tra loro perché sono mondi separati e a me ad esempio questa cosa fa comodo e adesso arriviamo a un certo discorso io uso google foto eccolo qua e siamo andati a vedere queste sono tutte le foto che uso così da esperimento eppure questo è il mio telefono personale e allora le mie foto personali non ce le tengo io nel mio telefono dato che a volte lo devo mostrare e non voglio farle vedere certo le tengo su un altro account quindi qui io posso andare a scegliere l'account adesso qua se schiaccio vedo tutti gli account che ho sul telefonino basta uno solo ma per fare tutte le cose che ho bisogno di fare io ne ho più di uno per cui se io scegliessi Daniele Castelletti che è questo mio personale io vedrei le mie foto personali quindi il fatto che siano separati mi permette di avere più album più google foto diversi e guardare le foto dell'uno e dell'altro l'unica cosa che scelgo è il caricamento quando scatto una foto dove viene caricata viene caricata sul mio account personale per cui scelgo quello perché se scatto una foto la scatto per me va sul mio account personale e non su quella da esempio però dal telefonino io posso scegliere quale account utilizzare quale account visualizzare di volta in volta se io condivido una foto che abbiamo detto da whatsapp condivido una foto dico su google foto mi viene chiesto su quale account voglio metterlo se ne ho più di uno sul telefonino e quindi la mando lì a questo punto poi guardiamo di nuovo le domande come faccio ad avere più account sul telefonino allora prima di tutto è una cosa un po' strana nel senso che è già un po' complicato averne uno se vogliamo averne due o averne tre comporta una capacità maggiore di utilizzo dello smartphone se lo so usare bene se so perché ne faccio due o tre è un grande vantaggio perché io cambio questa cosa qui che io faccio con google foto la faccio per tutto eh ragazzi ad esempio prima un amico mi chiedeva di gmail la posta elettronica se io ho due account google come faccio a mettere nel mio telefonino posso gestire la posta certo che posso ora vado in privato momentaneamente in gmail per per mostrare questa cosa voglio essere certo che non ci siano email di nessuno di voi e quindi sempre per un discorso di privacy sto andando sull'account giusto perfetto quindi io sul mio telefonino gestisco gli account di più indirizzi google con lo stesso sistema che mi avete visto usare in google foto quindi vado in gmail dal mio telefonino e qui ho l'account quindi se io cambio account cambio l'email che vedo i messaggi che ho ricevuto perché vengono ricevuti in caselle diverse dato che sono account gmail diversi e cambio identità quando spedisco un messaggio quando io spedisco un messaggio qui con il più posso scegliere l'identità che spedisce questo messaggio corso tablet 5 quello di prova oppure daniele castelletti oppure maggiolina oppure altri ancora se dovessi averne per cui più account possono essere un po' complicati da gestire ma moltiplicano le possibilità del vostro telefonino e della vostra gestione quindi con un apparecchio solo io faccio personale diciamo vita personale attività associazione maggiolina e attività di esempio corsi esperimenti eccetera perché ho la possibilità di gestire diversi account questa cosa per le foto questa cosa per gmail questa cosa per un qualsiasi servizio di google è gestibile sempre per più account l'importante è che io riesca a mettere più account come faccio a mettere più account andiamo a vedere quindi arriviamo a questo discorso sul mio telefono sto andando nella schermata principale c'è impostazioni come sul vostro del resto vado in impostazioni eccomi qua vado in account da qualche parte ci sarà un account o qualcosa di simile per cui sono in impostazione sto facendo scorrere attenzione non mi account che è un altro discorso o samsung account o huawei account no account e basta questo io ho account e sincronizzazione premo arrivo in una schermata dove ci sono gli account gli account sono accrediti registrazioni a vari servizi non ce n'è uno solo ce ne sono tanti ad esempio io ho un account xiaomi che è la marca del mio telefono ho dovuto farlo per poter sfruttare al meglio una funzionalità particolare che mi interessa del mio telefono poi ho l'account google ho l'account duo per come dire per fare le videochiamate ho l'account facebook per navigare su facebook per pubblicare sulla pagina facebook il nuovo video eccetera ho un account my team della team per vedermi le bollette del telefono dei cellulari per pagarle eccetera ho un account personale di post elettronica che è quella di info chiocciola associazione maggiolina punto it che non è gmail ma ho comunque potuto inserirla all'interno di gmail creando un account apposito quello che mi interessa è l'account google quindi io arrivo qui vado in google e posso aggiungere degli account probabilmente dentro altro in questo telefono no c'è sincronizza ora da qualche parte c'è un comando aggiungi account che io adesso non vedo qui ma quando ci andrete nei vostri telefoni vedrete che ci sarà in realtà secondo me quando io vado a creare qualcosa facciamolo facciamolo velocemente un attimo vado in gmail quindi sono tornato fuori vado in google i servizi google vado in gmail se devo aggiungere un altro account dico ah devo mettere dentro nel mio telefonino la posta elettronica di questo tre righine ci sarà da qualche parte impostazioni vediamo un po' impostazioni aggiungi account quando io aggiungo un account qui me lo ritrovo nelle impostazioni se io aggiungo un account in gmail che è un servizio google se aggiungo un account google quindi per guardare gmail poi me lo ritrovo in google foto servizi foto me lo ritrovo in google duo servizi google duo me lo ritrovo in tutti me lo ritrovo eh sì in altri servizi ho in mente altri servizi che utilizzo per il canale youtube ma me lo ritrovo ovunque nel telefono in tutti i servizi google e me lo ritrovo anche qui dove siamo andati a vedere un attimo fa nelle impostazioni impostazioni account e sincronizzazione google ecco che me li ritrovo qui quando aggiungo un account mi appare qui e siamo venuti qui perché qualcuno mi ha chiesto qualcosa della sincronizzazione cosa vuol dire sincronizzazione vuol dire che il dispositivo che ha dentro un determinato account si sincronizza con la nuvola cioè gmail ad esempio la posta elettronica c'è una sincronizzazione se ricevo un'email arriva anche nel telefonino se la cancello viene cancellata anche dalla nuvola se spedisco un'email viene mantenuta una copia della spedizione anche sulla nuvola cioè il dispositivo cellulare è sincronizzato con la nuvola o il dispositivo computer è sincronizzato con la nuvola ma in particolar modo del computer del cellulare questa cosa questa sincronizzazione fa sì che il vostro cellulare sia aggiornato con la situazione nuvola sempre vedete che qui c'è ultima sincronizzazione alle 18.02 alle 16.29 alle 5.56 eccetera io posso gestire la sincronizzazione ad esempio di questo account che per me ha uno scopo particolare lavorativo non voglio la sincronizzazione cioè su questo questo account è nel mio telefonino solo per gmail e solo per google drive le altre cose vedete la sincronizzazione qui è tutto spento non voglio gli contatti questo account non deve avere numeri di telefono quindi sincronizzazione spenta calendario quindi appuntamenti sincronizzazione spenta io posso decidere cosa tenere aggiornato sull'account normale quello personale del mio telefonino aggiorno tutto perché il mio telefonino deve essere aggiornato in tutto e per tutto quello principale ma sugli altri che ho per lavoro per esperimento gestisco io ad esempio questo corso tablet5 chiocciola gmail.com non lo tengo aggiornato di tutto gmail non è aggiornata perché io non voglio che il mio telefonino mi suoni anche quando ricevo una gmail a quella casella di posta qui che è di esperimento chissà quante email arrivano così mandate perché una persona fa una prova eccetera quelle non non sono una comunicazione per me è solo un esperimento quindi la sincronizzazione è spenta vuol dire che il mio telefonino non si preoccupa delle email arrivate su questo account quando ci vado manualmente cioè quando io vado manualmente nel telefonino apro il servizio gmail allora controlla la posta perché sono qui e controlla la posta e qui mi dice guarda che la sincronizzazione è disattivata e io posso far finta di niente oppure posso attivarla ma in questo caso faccio finta di niente e vedo la posta solo quando ci vedo ci vengo momentaneamente va bene mi rendo conto di aver fatto un assolo parlato da solo vediamo cos'altro si diceva in chat così almeno riusciamo a a vedere un po' tutte le domande allora Pacifico dice come spostare foto archivio in Google le foto archivio in realtà ti basta andare in sincronizzazione quindi quando tu vai sul tuo account Google cioè tu apri Google Photo e attivi il backup adesso nelle impostazioni impostazioni no dove sono io adesso qua sono questo è Google Photo no infatti non sono in Google Photo devo andare in Google Photo Google Photo quando vado qui c'è cartelle dispositivo premo su cartelle dispositivo no questo è un altro discorso ancora gestisci la raccolta impostazioni faccio backup e sincronizzazione quando io attivo il backup e sincronizzazione lui pesca le foto dal mio telefono e le manda su se ci sono delle foto sparse in altre cartelle mi vengono chieste quali sono le cartelle da cui andare a prendere le foto e mi viene chiesto in quel momento ma altrimenti le trovo anche dentro era sempre impostazioni cartelle dispositivo no questo me ne fa vedere era dentro avevamo detto impostazioni dov'è che non lo vedo più adesso ma era da queste parti qua no informazioni su Google Photo notifiche backup e sincronizzazione ecco qua cartelle del dispositivo sottoposte a backup cliccando qui trovi tutte le foto che hai nel tuo telefono perché sono contenute in una cartella e ti vengono mostrate i nomi delle cartelle tu le accendi quelle vanno su vanno su da sole poi il libera spazio pulisce il tuo telefonino dalle cartelle che ci sono fatemi chiudere per il discorso pubblicitario vediamo cos'altro si dice qui posso condividere le foto che ho su Google Photo in Whatsapp sì quando voi siete in Google Photo adesso ci arriviamo arrivo subito quando voi siete in Google Photo allora sono in Google Photo non aiutarmi telefono facciamo da soli allora sto tornando indietro sono in Google Photo questa foto la voglio condividere simbolo del condividi come la condividiamo Whatsapp e poi la sparo via non premo adesso per il discorso di privacy dei miei contatti Whatsapp ma posso condividere su Facebook su Whatsapp e su qualsiasi altro media io desideri poi le foto qui su Google Photo possono essere modificate filtrate possiamo fargli un'infinità di cose tagliate ingrandite eccetera allora Luigi dice sono in ritardo dov'è un dato il fuso orario allora vediamo cos'altro si dice questo video si può rivedere più tardi si ringrazio Loredana per l'uso della super chat grazie infinite infinite Loredana stavo vedendo di non aver saltato niente come messaggi allora stavo tornando un po' indietro le foto ricevute in Telegram occupano la memoria del telefono eh sì sono foto ricevute quindi anche loro occupano occupano spazio vengono salvate all'interno del telefono ed è se hai Telegram in Google Photo hai la cartella Telegram e puoi decidere se mandarle su oppure no allora sto tornando indietro un po' per leggere i messaggi messaggi passati vediamo quello della sincronizzazione l'abbiamo visto Orazia l'abbiamo visto allora Enzo se volessi salvare una singola foto di WhatsApp l'abbiamo detto Gianni Outlook ok allora questi li abbiamo già letti se io le lascio su Google Photo che le vedo che le vedo sul telefonino quelle occupano spazio nella memoria del telefono no se fai libera spazio le foto non occupano uno spazio Sergio dice Google Photo WS Galleria lezione 182 blu perfetto guardatela perché diciamo un sacco di cose di Google Photo potremmo parlare per settimane a dirci la verità vedo che mi chiedete infatti un sacco di cose allora Tiziano ciao Daniele hai mai usato Google Creator sì dipende da quello a cui ti riferisci sì comunque serve per caricare video e altre cose LiveOscar con il mio telefono non lo fa resta sempre una copia LiveOscar se tu hai una scheda SD cioè se le tue foto non sono nel telefono ma sono nella scheda SD in memoria espansiva del telefono la scheda SD non viene toccata da Google Photo Google Photo può lavorare solo sulla memoria interna del telefono Riccardo questo video può essere Roberto questo video può essere visto più tardi sì Pacifico come spostare foto d'archivi abbiamo già detto Arnaldo Google Photo impostazioni backup roaming deve essere spento sì assolutamente sì attenzione a questo discorso qui allora andiamo su impostazioni e backup e sincronizzazione vediamo se ce n'era un altro allora andiamo qui backup e sincronizzazione questo allora il roaming è inteso con quando effettuare il backup cioè posso mandare le foto su Google Photo tu scatti una foto sei in una città scatti una foto la tua compagnia telefonica in quella posizione lì non prende se non prende la tua compagnia telefonica non hai i dati internet e il tuo telefono non può mandare le foto su Google Photo però tu hai cattato appena adesso una foto lui vorrebbe mandarla se io gli dico di mandarla in roaming vuol dire manda la foto utilizzando una compagnia telefonica diversa non va bene perché consumo soldi veri spengo il roaming il mio telefono tiene la foto in memoria quando arrivo in una zona coperta dal mio segnale la manda su e siamo a posto e quindi non pago nulla in quel caso lì vediamo se c'è qualcosa nella guida cosa ci dice qui se ci da no ci da solo delle istruzioni ok no ci da solo delle istruzioni quindi il roaming si tiene spento perché se no spendo dei soldi in sostanza allora poi Nicola su Google Photo è possibile compattare unire le stesse foto no come fai a compattarle e unirle in Google Photo si creano gli album se intendi metterle tutte da un'altra parte un punto è se devi mischiarle fare foto editing non è Google Photo il sistema migliore per prendere due foto e metterle insieme però si puoi raggrupparle creando degli album non le cartelle come in galleria perché è un sistema vecchio di fare questa cosa ne abbiamo parlato di recentemente anche qui in un altro video adesso non ricordo il nome allora Carlotta scusa Daniele come si fa a chiedere la conferma di lettura su Gmail non c'è la conferma di lettura su Gmail a meno che tu non abbia un Gmail a pagamento e quindi la versione G Suite che è quella più professionale e quindi c'è la conferma di lettura altrimenti non c'è Giuseppe Mohamed dice avere tanti account crea solo confusione certo bisogna saperli usare allora è un vantaggio se non li sai usare non ha neanche senso averne tanti purtroppo qualcuno tende ad averne tanti perché non si ricorda la password del vecchio non sa che ne aveva già uno ne fa un altro quello è già confusione è già confusione allora vediamo cos'altro si dice Luigi ciao Daniele sono in ritardo va bene il fuso orario l'abbiamo letto prima questa cosa qui Sergio ciao Daniele ho fatto tardi grazie è rivedibile sì appena finito il video dopo 2-3 minuti è già subito si può rivedere da capo Cobra ti seguo ti seguo dai tutorial Python grazie infinite Cobra mi fa piacere saperlo Tiziano ma se devo aggiungere un account per vederlo lo devo aggiungere su tutti i dispositivi se tu vuoi vederlo sul telefonino deve essere sul telefonino e vuoi vederlo anche sul tablet devi aggiungerlo anche sul tablet se vuoi vederlo anche sul computer devi aggiungere anche sul computer poi non è che avrai 50 dispositivi e poi magari su un tablet non vuoi vederlo e quindi non lo metti per cui ti gestisci un po' un po' tu a seconda di quello che usi ci metti un account tanto in questo dispositivo un account ce lo devi avere io generalmente consiglio di avere sempre quello così computer telefonino e uno anche il tablet tablet è tutto sincronizzato quello un'email che mando con uno o una foto che faccio con l'altro ritrovo tutto nel computer nel tablet o nel cellulare e ovviamente servono sincronizzati serve la password bisogna aversi messi dentro se invece ne hai tre diversi è la confusione più totale perché poi le foto che hai nel telefonino non le vedi sul tablet le foto che hai e quindi è difficile da gestire Gennaro come si fa a togliere la chat che dà fastidio da qualche parte in alto ci sono i tre pallini Gennaro e dici tolgo la chat allora Andrea ciao va bene ci fermiamo qua intendevo le foto duplicate Nicola non capisco più vediamo se trovo il messaggio Nicola indietro adesso ma è passato del tempo e quindi Nicola vediamo su google photo è possibile compattare unire la stessa foto no le foto duplicate non vengono considerate da google photo non dovresti avere foto duplicate sul tuo telefonino se le duplichi è perché le salvi con un nome diverso se fai due foto non sono per lui una foto duplicata sono due foto fatte allo stesso gruppo di persone se invece prendi una foto e la mandi su whatsapp allora si generi un duplicato ma sono in due cartelle diverse e per lui non esistono le due cose devi essere tu o eventualmente ogni tanto a pulire il telefonino dalle immagini che hai mandato via whatsapp l'ultima perché quando vedo vado in google photo non mi appaiono le tre righine perché non le vedi secondo me perché ci sono o tre righine o tre pallini avete visto che è diventato scuro tutto da un colpo perché il mio telefono ha un'impostazione che ha un certo orario alle 19 dato che fuori si fa scuro cambia illuminazione per evitare di abbagliarmi quindi in questo momento è passato allo scuro le tre righine ci sono quindi da qualche parte gli olando ci devono essere prendiamo un'altra domanda Gaetano buonasera signor Castelletti diamoci del tu Gaetano ho un samsung da due mesi ed uso google photo mi trovo benissimo le chiedevo se google photo va aggiornato o si aggiorna in automatico dipende dalle impostazioni che abbiamo all'interno del play store quindi in questa posizione qui quella che mostravo all'inizio vediamo se ci arrivo eccolo qua play store e qui eravamo così all'inizio era qua tre righine le mie app e i miei giochi se qui c'è l'aggiornamento automatico attivo si aggiorna automaticamente altrimenti le trovi qui e devi aggiornare manualmente le foto da solo in sostanza ci sono un sacco di domande e mi dispiace da cos'è google creator allora è un'applicazione che serve per creare dei contenuti adesso non ce l'ho qui nello specifico da farti vedere prova a installarla nel tuo telefono e quindi vedi di cosa si tratta allora Raffaele Daniele cosa vuoi dire sulla linea della chat in modalità lenta attivata vuol dire che non è possibile scrivere per gli utenti più quindi nella nostra chat più di un messaggio ogni minuto in questo modo i moderatori hanno più tempo per leggerlo e gestirlo e quindi se una persona scrive Raffaele non può farlo deve aspettare va bene ragazzi ci fermiamo qua ci sono un sacco di domande e vedremo di dare risposta in un'altra occasione allora domani sera siamo in pausa non ci sarà la solita la solita diretta alle 18 ci sarà il video ci sarà qualcosa sicuramente torniamo in diretta martedì sera alle 18 è stato come sempre un piacere avervi avervi qui a farmi compagnia ci vediamo allora in diretta martedì sera ciao grazie a tutti ciao ciao Grazie a tutti.